Il piano di biomonitoraggio per la Solvè di Spinetta Marengo, deposito nucleare nazionale nella zona di Alessandria e colonnine di ricarica elettrica. Sono questi gli argomenti principi della consulta per l'ambiente del comune che si svolgerà nel pomeriggio di oggi con inizio alle 17.30 a Palazzo Rosso. Se non ci sono dubbi che sia necessario iniziare il biomonitoraggio della Solvè per registrare gli eventuali danni sulla popolazione, molti punti interrogativi permangono invece sulle modalità. A quanto è dato sapere, oggi la regione Piemonte e l'ASL hanno deciso di fare il biomonitoraggio su un campione piuttosto ristretto, per intenderci un gruppo di persone che gravitano intorno alla stessa zona dove erano state monitorate le uova e i di terreni. Applicare le indagini invece su una fetta più ampia di popolazione ed esterna alla città di Alessandria, con particolare attenzione certamente alla zona limitrofa alla fabbrica, sarebbe secondo molti più consono. Capitolo deposito scorie nucleari. Al momento in Piemonte rimane individuata come zona quella di Alessandria Ovest, stiamo parlando di Quarniento. La candidatura di Trino, il comune nel Vercellese, ricordiamo, rimane un'autocandidatura e sarà solo il Ministero a dover decidere nei prossimi giorni o mesi se quel terreno può essere compreso nella mappa, anche se da più parti arrivano le motivazioni con il comitato Trino, che ci sarebbero molti e troppi rischi per un territorio da sempre conosciuto per le coltivazioni del riso. Naturalmente anche ad Alessandria e provincia si dicono contrari ad ospitare il deposito nucleare, avendo già il Piemonte Sud fornito aree inquinate, vedi Solvay ed Eternit. Infine le colonnine elettriche di ricarica. Il comune, nella persona dell'assessore all'ambiente Michelangelo Serra, ha individuato 70 luoghi dove sarebbe opportuno posizionare le ricariche. Il PNRR mette a disposizione molti finanziamenti per incentivare sul territorio italiano la posa, però attenzione, i soldi vengono dati direttamente all'azienda e proprio per non lasciare solo alle imprese fornitrici le decisioni di impiantistica che potrebbero non tener conto delle necessità reali di un territorio, come capacità di fornitura elettriche a abitanti, il comune intende seguire ed indicare le zone. Se pensiamo che oggi una colonnina di ricarica elettrica ha bisogno di circa 300 kilowatt, sarebbe opportuno fare gli scavi là dove questa portata elettrica è già presente, evitando lavori inutili.